Amici di Swimming Channel, bentrovati da Corrado Sorrentino, siamo in compagnia con Alberto Razzetti. Chiaramente questo è lo stadio del moto di Riccione, siamo in gara durante gli assoluti primaverili. Abbiamo appena concluso la seconda giornata, Alberto ha gareggiato ieri nei 200 delfino, oggi nei 50. Come è andato? Ieri il 200 delfino bene, ha fatto due centesimi, soprattutto in personale. Comunque avendo venuto poche volte questa gara, come facevo da quando ero ragazze primo anno, tipo, sono contento. Il passaggio era molto buono, ma al solito, poi sono un po' molto buono, ma ci sta. Come diceva Magnini, peccato il passaggio Zena. Ascolta, invece i 50 oggi? 50 oggi avendo lavorato un po' di più sul 200 delfino, quest'anno sono venuto un po' così, perché la mia città mi è mancata un po' a sto giro, però va bene, è buoni segnali comunque per il centro. Buoni segnali per il centro, però hai parlato anche dei misti, forse i 200 e i 400 misti possono essere la tua, non l'alternativa migliore, le tue gare preferite probabilmente. Sì, il 4 misto è un mega idea, siamo loro tre, comunque... Perché è faticoso. Però quest'anno ho lavorato principalmente sui 200 misti, per ogni riconseguenza spero venga bene anche il 400. Va bene, allora, che dire, facciamo un in bocca al lupo ad Alberto Razzetti, ma una domanda prima di concludere. Descrivici il tuo allenatore Davide Ambrosi. Non so come descriverlo, comunque... È un bravo allenatore. Sì, dai, è bravo, a fine del mese delle mie buone gare e anche il suo. Va bene, allora complimenti Davide Ambrosi, complimenti ad Alberto Razzetti, in bocca al lupo per questo proseguo di manifestazione, per Swimming Chamber, d'accordo sovventino, e il bomber, a presto, ciao!